Toy Story, Toy Story sono molto affezionato a Toy Story, non le so a memoria, io mi ricordo questa, verso l'infinito e oltre, questa è Buzz Lightyear. Allora, infatti è questo, dunque per fare il doppiaggio, per gli americani soprattutto, diciamo esclusivamente per gli americani, loro vogliono che tu fai il provino e gli devi inviare, non io, la casa di doppiaggio, gli invia poi i provini fatti. Gli attori non hanno una presentazione con nome, cognome, hanno soltanto il numero, uno, due, tre, quattro, cinque, arrivano in America le voci che sono state provinate e c'è un esperto di timbro di voce americano che io ho chiamato il degustatore di voci, era come quelli del caffè, non che assaggiano se il caffè è buono, se ha varie tostature e questo invece è uno che ascolta anche non sapendo la lingua che sta sentendo, metti che lui sa soltanto l'inglese perché sono nati fortunati perché uno è nato in l'intera America, ha la vita più facile penso per quanto riguarda come attore in America anche se sono tanti ma tanti più di noi. E questo capisce se la tua voce è accattivante per un pubblico, soprattutto un pubblico giovane. E io ho fatto questo provino e poi dopo un po' di giorni mi hanno detto hai vinto il provino. Ho detto, ma questo è Walt Disney, era della Disney sto film, ma questi hanno incominciato a fare delle domande che mi hanno infastidito, tipo dall'America. Che indirizzo politico hai? Io ho detto il mio indirizzo politico, ho detto però vi costo un po' di più. Adesso che mi avete fatto questa domanda e vi costo di più. Siamo partiti da 10, un numero, ho detto vi costo 15. Ero diventata una carugna, avevo già fatto soldati perciò stavo tranquillo. Poi arriva un'altra, di che religione sei? Rispondo, 5 in più. Da 10 sono già diventati 20. Poi il titolo di studio. Va bene, ve lo dico, altri 5. Ho fatto una partita a poker praticamente, mica anche un tratto. Mi hanno accontentato in tutto e l'ho fatto, l'ho doppiato. Loro non lo sanno, ma l'avrei doppiato anche per quei 10. Invece sono arrivato a 30. Fabrizio, ogni volta che si entrava e ci incontravamo c'era la solita sua risata. Fabrizio lo conoscevo già da molto tempo prima, da quando avevi iniziato con la televisione, l'ho conosciuto. No, è stato piacevole. È stata soltanto una volta è successo che abbiamo doppiato assieme e abbiamo fatto in quel periodo anche delle foto assieme. Ma per il resto abbiamo sempre fatto colonna separata, perché o era impegnato lui, soprattutto lui, oppure era impegnato io. Si va e poi si fa la colonna, il tuo personaggio e poi i mischiano. Però in quel periodo, sai, una preparazione per quanto riguarda il doppiaggio non è come un personaggio teatrale. La cosa importante nel doppiaggio è seguire la voce, per quanto riguarda i cartoni animati, è seguire la voce di chi l'ha doppiato in inglese. Così, per quanto riguarda i film che si doppiano, è importante seguire l'attore, non fare la propria interpretazione su quel personaggio, capito? Perché è una presunzione tale. Poi, ossia, tu non puoi permetterti di fare la tua interpretazione su un attore di nome. Perché quello c'ha i cosiddetti e ha lavorato tutta la vita. Tu vai là e poi fa bello, dici a molte faccio ed è come se fassero personaggio, ci metto delle cose mie. Perciò l'importante è seguirlo pedissequamente.